Come caricare i tuoi documenti personali e verificare il conto? Come società regolamentata, BD Swiss richiede la verifica del conto mediante il caricamento di documenti di identificazione e il completamento del profilo economico e del test di adeguatezza immediatamente o subito dopo l'apertura di un conto. Questa procedura contribuisce alla verifica dell'identità, alla sicurezza del conto e garantisce che il cliente comprenda i rischi che il trading di prodotti con leva comporta. Nota, potrai depositare e iniziare a fare trading senza verificare il conto per un periodo fino a 15 giorni dalla registrazione, trascorso il quale dovrai obbligatoriamente procedere alla verifica. Per verificare il conto, accedi alla dashboard di BD Swiss con il tuo indirizzo email e password, clicca su Impostazioni e completa attentamente il tuo profilo personale. Una volta fatto, clicca su Salva e procedi al completamento del profilo economico. Leggi attentamente le domande e seleziona le risposte dal menu a tendina. Completando il profilo economico, ci permetterai di assicurarci che la tua situazione finanziaria sia in linea con i tuoi pattern di deposito e aggiunge un livello aggiuntivo di verifica per finalità antiriciclaggio. Qualsiasi informazione fornita rimarrà trattata nel più stretto riservo. Una volta fatto, clicca sulla freccia indietro e seleziona Verifica documenti, quindi procedi al caricamento della prova d'identità. Scatta una foto chiara di entrambi i lati della tua carta d'identità, passaporto o patente di guida e salvala sul tuo dispositivo mobile o desktop. Seleziona la voce Tipo di documento per specificare il tipo di documento che stai per caricare. Quindi clicca su Carica documento per inviare l'immagine. Tieni presente che il documento d'identità deve essere in corso di validità e non scaduto. Seleziona Continua e procedi al caricamento della tua prova di residenza. Accettiamo un estratto conto bancario o bolletta emessi negli ultimi tre mesi. Scatta come fatto prima una foto chiara dell'intero documento, nascondendo informazioni sensibili. Seleziona il tipo di documento che stai per caricare. Quindi clicca su Carica documento per ritrovare e caricare la tua prova di residenza. Torna ai documenti di verifica e clicca sulla freccia indietro per completare il test di adequatezza. Questa valutazione verifica che tu disponga dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per negoziare prodotti con leva. Leggi attentamente ogni domanda e scegli le risposte. Continua fino al completamento di tutte le sezioni e una volta fatto clicca su Invia. Attendi la finestra di conferma, quindi clicca su Continua per tornare alla dashboard. Hai ora completato il processo di verifica del conto. Ti chiediamo di attendere fino a 24 ore lavorative affinché il team possa verificare il profilo. Una volta fatto riceverai un'email di conferma. Se per qualche motivo i documenti vengono rifiutati in quanto non validi o scaduti, o nel caso in cui sia richiesta ulteriore documentazione, puoi usare lo stesso processo per caricare nuovi documenti. Ricorda che la verifica del conto consente inoltre di fare trading senza interruzioni e di prelevare il saldo e eventuali profitti a tua descrizione. Grazie per la visione. Se necessiti di ulteriori informazioni, non esitare a contattare il team di supporto di BD Suisse a support.bdsuisse.com o tramite la live chat del nostro sito.